Sprofonda il centro storico di Afragola, una voragine si è aperta nel cortile di un palazzo di Vico Plebiscito. Sette famiglie sono state sgomberate e l'ennesimo cedimento che avviene nella città, dieci giorni fa un analogo episodio in via Falconieri. Tutta l'area del centro storico infatti è interessata da numerose cavità sotterranee utilizzate in passato per prelevare il tufo per le costruzioni degli edifici dell'epoca. Stavolta è toccata ad un palazzo di Vico Plebiscito, dove la volta di una cavità sotterranea ceduto, procurando una voragine e danneggiando un'auto in sosta nel cortile dello stabile, rimasta in bilico sul buco. È successo che la mattina quando ci siamo svegliati abbiamo trovato questo scempio. Il signore è qua che c'era la macchina, perché poi dopo ci stava proprio una macchina dentro, per toglierlo e mi ha fatto un casino. Tanta paura. Poi sono venuti quelli del comune, i pompieri, tutti. La mattina hanno detto che potevamo stare, il pomeriggio, un'altra volta, ci hanno sgomberati tutti. Lavoraggine è larga circa 7 metri, per una profondità di circa 13. Nel buco i tecnici hanno trovato molta acqua, proveniente presumibilmente dalle condotte fognare del complesso abitativo. L'area è stata immediatamente sgomberata e 7 nuclei familiari pari a 35 persone sono stati allontanati per pericolo di crollo. Dovamo andare in un albergo solo a spese nostre, perché il comune non c'è soldi. E quindi voi ve la prendete anche col comune? No, no, col comune non ce la prendiamo, perché lo sappiamo che è una cosa che dobbiamo fare noi. Però una mano si poteva dare, però questo è il comune di Afragù. Questa mattina il manto stradale è ceduto anche a Marano di Napoli, in via Caracciolo, inghiottendo un autobus di linea. Sul mezzo fortunatamente non vi erano persone, solo l'autista intento a fare manovra.